Perchè sono una donna? Nera voi! Di male in peggio! Perchè sono una donna? 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 Allora crea mondo Slot nuovo mondo Quanti se ne possono fare? Credo sia limitato Quanto pare Selezioniamo il primo slot Modalità di gioco Scusate Sopravvivenza Costruisci, raccogli, crea e affronta potenti nemici Mentre esplori il mondo Oppure setbox Genere gli oggetti che riservano E costruisci senza requisiti di risorse Quindi praticamente Sandbox sarebbe la creativa di Minecraft Perchè direi che non mettiamo sopravvivenza Ok Immagini di copertina Si possono scegliere le immagini di copertina A quanto pare ci vuole cliccare sopra per cambiare Suppongo questi siano tutti i vari biomi almeno credo Che è interessante alla fine Oddio questa è la stessa grotta che c'era lì nel video introduttivo Spero non sia una grotta in tutto il mondo Ma vabbè si cazzi Mettiamo quello che sembra più bello questo Questo perchè mi ricorda la campagna dove abito Non campagna, regione scusate Campagna Ok Abito in mezzo alle frasche Sovrascrivi i sit del mondo Non so cosa sia Penso sia il sit di generazione del mondo Perchè magari si genera tipo Minecraft Nemici si Fame si Temperatura Che siamo termometri C'abbiamo il termometro su per il culo Boh Vigore Se questa impostazione è impostata su si Il personaggio del giocatore consumerà vigore quando scatta, nuota, spinge o gitte eccetera No se questa impostazione è impostata su no Il personaggio del giocatore non consumerà Cazzo Non mi riscrivere le stesse cose però al negativo Cioè dimmi semplicemente no Due punti il contrario Cristo E devo leggere tre righe così a capocchia Eliminazione Impostata su si il personaggio del giocatore può essere eliminato Ok Rilascia Inventario All'eliminazione Creature alleate Abitanti del villaggio Quindi ci saranno i villaggi tipo Minecraft Vabbè Facciamo sì Mondo 1 di sopravvivenza Non gli posso dare un nome Un nome? No? Mondo 1 di sopravvivenza Così Non lo posso chiamare in qualche modo Un nome del cazzo gli dovrei dare per identificarlo No Mondo 1 di Ollipio Ok va bene Va bene Ok creiamo sto mondo Vediamo che succede Comunque signori Creato il mondo Entrati Cioè non lo so vedremo com'è Io non so un cazzo assolutamente di Come matchmaking Ma devo entrare in un mondo La coda Ricerca partita Ma che significa Preparazione Matchmaking Ma mi che devo giocare con altre persone Ma io spero non sia online Ma come funziona sto gioco di merda Vabbè sti cazzi Intanto che si collega non so cosa Vi dico già Io non so un cazzo di sto gioco Ho visto un paio di video di Eren Blaze Sembra più o meno una specie di Minecraft fatto strano E ho detto Ok proviamolo Portiamo sul canale Vi ho fatto pure un video della cazzo craft Dove vi ho chiesto se eravate interessati Che comunque l'avrei portato E magari se mi piace Ci faccio pure una serie survival tipo Minecraft Tipo la cazzo craft Che è la serie survival di Minecraft Se non la conoscete Se non l'avete mai vista Andatela a vedere Perché è bella Per il resto signori io non so un cazzo Non so solo nei tetti Ho un orsetto Un orsetto rosa E' il piccolo orsetto LGBT questo qui Parla con leader della squadra delle coccole Ma leader scritto con L maiuscola Perché il nome lui si chiama leader Poi squadra delle coccole Cristo Dio sei veramente il piccolo orsetto LGBT Quanto cazzo devi essere la seconda lettera dell'LGBT Per chiamarti leader della squadra delle coccole Comunque è per parlare Cazzo il tasto sinistro non ti piaceva del mouse no? Ah dove sono? Chi sei? Chi sono io? E Cristo Dio c'ha problemi di memoria come me a quanto pare Andiamo avanti Aspetta ho la risposta all'ultima domanda Il mio nome è il leader della squadra delle coccole Porco Dio ma che nome di merda Leader della squadra delle coccole Ma una cosa più semplice Piacere di conoscerti Ma sto cazzo E tu sei Ollipio? Perché mi suona familiare? Ma che cazzo ne so Fino da mo' non sai chi sei Non sai chi sei Non sai chi sono Ti suona familiare? Non abbiamo mai scoperto un posto dall'aria così nuova come questo Ma sono felice che siamo qui insieme Potrebbe essere pericoloso là fuori Meglio prepararci per sicurezza Prepararci Oppure ciao Facciamo prepararci Facciamo finta che vogliamo parlare Vogliamo essere socievoli Da queste parti c'è un sacco di legno e granito Eh iniziamo male però se ti metti il granito Mettimi la roccia Il granito non mi piace È un po' marrone brutto schifo Chissà cosa potremmo costruirci Probabilmente una clava che te la puoi clavare in culo Allora io posso continuare a parlare con lo stronzo Perché mi sento come se non fossimo soli qui Ah ok avverte pure le presenze Oltre che il piccolo orsetto LGBT Eppure scemo Peccato Come possiamo prepararci? Da queste parti c'è un sacco di legno e granito E l'ho capito Chissà cosa potremmo costruirci Porco Dio Cristo Spiegami a che serve Non serve a nulla Me ne vado Me ne vado Si corre ok si corre con shift Molto molto scomodo Se faccio tipo doppio tap su avanti no eh ok Molto scomodo correre con shift Se tipo faccio così Ok posso dare i pugni agli alberi Ma quanto pare non succede un cazzo Allora vabbè Prima di continuare guardiamoci intorno Siamo spawnati qui ci sono credo delle pannocchie Si è mais Molto molto brutto se devo essere sincero Comunque Ambientazione Ambientazione carina Molto molto carina Stile puro fortnite Solo il personaggio I personaggi sono lego Per il resto è tutto stile fortnite normale Però non è male come idea Cioè ci sta a mischiare lego e normale Così almeno non è tutto stile lego Come quel vecchio survival che fece lego stessa Che poi divenne un flop perché faceva cagare Hai fame ma Cristo Dio ho iniziato adesso Fammi Fammi Camminare non lo so Fammi capire che devo fare Che che faccio Allora Da Iron Blade ho visto che si mangia tipo queste cose Quindi se raccolgo tipo i lamponi Tecnicamente Dovrei poter mangiare Quindi se faccio tipo così Ok Fortunatamente lì in basso a destra Ci sono tipo gli oggetti che ho Nell'inventario Quindi con la rotella mi posso muovere Senza dover schiacciare i numeri Che sennò mi viene il cancro Alla mano sinistra E se faccio tipo tasto destro Come Minecraft no Se faccio tasto sinistro Si ok E' fatto completamente a cazzo Comunque Intuitività un paio di palle Ok devo mangiare ancora O sono pieno Non sono pieno forse Ho tutte e tre i cuori Provo a prendere qualcos'altro Non so se effettivamente Mi serve ancora mangiare Ok Bian piano che mangio In alto a sinistra c'è l'icona del personaggio Qui ci sono delle zucche Raccogliamo le zucche Magari posso mangiare anche queste Si a quanto pare si Comunque vedete che pian piano che mangio lì in alto a sinistra Si riempie praticamente quella barra verde Ciò mi fa intuire Che lì in alto a sinistra Oltre ad avere i tre cuoricini Che indicano la vita La barra verde intorno al personaggio Indica la fame Mentre Quel grafico Sotto il personaggio Dove c'è tipo La barra Che parte dal blu E finisce sul rosso Che poi in realtà è un arancione scuro Suppongo sia la temperatura Visto che c'è scritto la temperatura Quindi si Probabilmente ci abbiamo Un termometro infilato su per il culo Che ci dice La temperatura del corpo Visto che io comunque Fratm Anzi ragazza Non si va con Fratm Sei una Sorm Come cazzo Non lo so come cazzo si dice in napoletano Comunque Ok Non ci abbiamo niente sotto la scella Quindi inevitabilmente Ce l'avrà sotto il O meglio dentro il culo Il termometro Per sapere costantemente la temperatura Culo che fra l'altro Non ha E' proprio piatta Cazzo fare un omino lego donna Però Non lo so sembra sessista Perché piatta in culo Dio cane Però Ok Ok Allora stavo parlando comunque Prima dell'ambientazione L'ambientazione è figa Devo dire Forse perché ci ho messo L'RTX Molto molto bella L'illuminazione E tutto il paesaggio Molto carino Li vedo una punta di una montagna Che spunta tipo Un cazzo enorme Da lì dietro Quindi mi fa intuire Che qui vicino Abbiamo già una montagna Comunque La render distance È molto molto lontana Cioè io vedo Fino alla culonia Probabilmente Ci si vedono gli alberi Lì in fondo Tra quei due alberi Ma è incredibile Si vede un bordello di roba Quindi non mi devo preoccupare Neanche di caricare Estremamente Il computer Perché ce la fa tranquillamente Anche con l'RTX attivo Per il resto Tutto molto bello L'importante è adesso Capire cosa dobbiamo fare Perché lì pure Vedo una montagna Ciò mi fa capire Che lì abbiamo un Bioma nevoso Lì suppongo anche Qui siamo su quella Che potrebbe essere Una pianura Come in Minecraft Magari qui vicino C'è qualche corso d'acqua Qualche fiume Non lo so Sta scattando un po' ogni tanto E' fatto tipo Qualche scattino strano Però non credo sia Dovuto al gioco Credo il computer Ci abbia qualche problema ogni tanto Vedo degli animali Vedo tipo un pollo Anzi dei polli In realtà tipo lì Ho visto prima una picura Che bella è la picura Andiamo a vedere se tipo Posso avvicinarmi e colpirla Posso fare magari così Coccola La posso coccolare Coccola è la pecora Coccola è la pecora Magari non da dietro Che sembra brutto Oddio E che fa se la coccolo Che mi ha lasciato? Ha cacato Che cos'è? Che mi ha dato lana Ma la posso pure colpire Oddio Ammazzo la pecora Ma sta ferma Non scappa Ma è stupida C'ha problemi Oddio ma c'ho una costoletta In mano Ma la posso mangiare così? Sì lui si mangia le costolette crude Si è molto un cazzo Ah ma una volta che schiacci Non è che devi tenere premuto Schiacci una volta e mangia Però sta fermo Non si muove E' ritardato Non sa fare due cose contemporaneamente Anzi è ritardata Vabbè che è donna Quindi ci sta Queste cose che sto dicendo Sono comunque molto sessiste Potrebbero buttarmi giù per questa cosa Buttarmi giù il video Io poi non so neanche parlare Sembro sessista Ma in realtà Non sono sessista Sono coglione Vabbè Wow wow che è ritardato Guarda C'ha il cippo in mano E non può colpire Perché è stupido Uccidi sto coso Rotto il cazzo Seta Grazie gentissimo Ma lì c'è un lupo Ok Oddio che ho fatto Ho rotolato Che è? Oddio Dark Souls Posso rotolare? Non mi dire che questa è la schivata Incredibile Vabbè allora torniamo dal piccolo orsetto LGBT Parla con il leader della squadra delle coccole Mi sento che quelle risorse ci saranno utili Un bel falò illuminerebbe e scalderebbe ogni cosa Dovremmo costruirne uno per sicurezza Perché vogliamo un falò? Oppure come posso farlo? Oppure ci penso io Perché vogliamo un falò? Ho il pronto presentimento che non siamo soli E che tutto diventerà freddo e pericoloso quando scenderà la notte Basta Minchia Cristo Ti sei sprecato Fratello mio Questo meraviglioso tramonto mi ricorda che la notte è dietro l'angolo Comunque ti posso aiutare in qualche modo? Come possiamo prepararci? Un bel falò illuminerebbe Vabbè di nuovo Come posso farlo? Apri il menu costruzione e trova quello che vuoi costruire Puoi costruire qualsiasi cosa riesci a immaginare Basta avere i mattoncini giusti Ok Come si apre il menu? Allora guardiamo l'HD In alto a sinistra abbiamo già visto quello che ci abbiamo In basso a destra abbiamo l'inventario L'abbiamo già visto Ah c'era scritto che è effettivamente control e schiva Quindi non è una rotolata fatta a cazzo In alto a destra c'è M che sarebbe la mappa Che è tutta questa la mappa Così piccola Cioè non è piccolissima ma non è manco enorme C'è un limite quindi la mappa O man mano che tipo esploro diventa più grande O c'è un limite Qui c'è l'inventario Ok quindi devo schiacciare sempre M per accedere all'inventario completo Qui c'è giocatori Non lo so Probabilmente se invito qualcuno ad entrare nel mio mondo Potrebbe essere lì C'è un animale brutto comunque Che io direi che ci possiamo fare tranquillamente i cazzi nostri Perché non voglio morire In basso a sinistra invece abbiamo Tab che ci Non è questo tab è questo Che ci fa andare direttamente all'inventario Ma mi è più comodo sinceramente schiacciare la M per accedere alla mappa E andare all'inventario Dettolo sinceramente E poi abbiamo il menu costruzioni che si fa con Q Dove per fare il falò mi servono 3 di legno 3 di legno che io non ho Come recupero 3 di legno? Allora se prendo a cazzotti gli alberi Non mi da un cazzo Abbiamo visto prima Cioè non fa niente Facciamo 0 di danno Ciò mi fa intuire che devo tipo Raccogliere le niente qui a terra Quindi adesso ne ho 1 Adesso ne ho 2 Adesso ne ho 3 Quindi teoricamente adesso potrei dover fare il falò Credo Non lo so Proviamo? Ok si posso fare il falò Dove lo piazzo? Lo piazzo in mezzo al cazzo di nulla Hai freddo ma va? Ma non mi dire Ok e anche il piccolo orsetto LGBT ci sta raggiungendo A quanto pare lui vuole scroccare il nostro falò Non è capace di farsi un falò tutto suo Tra l'altro Tralasciando il falò che comunque è grande E ci sta che non si spenga Lui aveva una cazzo di torce in mano Con il quale comunque riscaldarsi Quindi io non so perché tu stia sentendo freddo Tecnicamente ti stavi già scaldando Ma poi come faceva a non spegnersi sotto la pioggia Ma soprattutto Ogni volta che arriverà la notte Pioverà? Perché io mi rompo il cazzo quando piove Già mi rompo il cazzo su Minecraft Figuriamoci qui su questo nuovo gioco Comunque parla con l'iter della squadra delle coccole Vediamo cosa ci dice Il tuo falò ci darà il caldo se la Situazione si raffredda Ok non so leggere scusate Se ci dovessimo perdere durante le nostre avventure Potremmo cercare il segnale di fumo per ritornare all'accampamento Sono in pensiero per la pioggia Forse ci serve un rifugio Puoi costruire un capanno semplice dal menu costruzione Nella categoria costruzioni Ho bisogno di altro legno Se riserve più legno ci sono alberelli che possiamo abbattere E da cui possiamo ottenere risorse Ma non è vero Io ci ho appena dato dei pugni cliccando il tasto sinistro Non fa un cazzo C'è anche molto legno a terra Puoi spezzare i rami dei cespulli per ottenere altro legno e fibre Ok ma questo da dove è sponato? Ma non c'era due secondi fa Ma non è vero non mi mentire bastardo Allora Cespulli quindi questi sono Ma Cristo Dio ma sono appena uscito dal falò Dammi il tempo Ok cespulli Quindi se faccio così Mi dai legnetti Non mi ha dato legnetti Bastardo maledetto Ok sì qui c'è un legnetto Andiamo tipo qua Ho capito che c'ho freddo E Cristo Dio dammi il tempo Mamma mia Devo prendere il legno Sennò il rifugio come lo faccio E basta tanto non è che diventa un cubetto di ghiaccio Cristo Dio Ah e ancora non ci sta in ipotermia L'indicatore dice che stiamo super giù bene Quindi vaffanculo E suonato il timer Vaffanculo Chi cazzo se ne frega Poi ci facciamo il rifugio e poi chiudiamo l'episodio Perché io devo capire che cazzo si fa in sto gioco di merda Vediamo C'ho forse 5-6 di legno Non lo so Non me li indica nemmeno nell'inventario in basso a destra Vediamo posso fare Banco della creazione Non mi serve il banco della creazione Ah capanno semplice eccolo Mi servono 13 Cristo Dio Ma questo da dove è sponato? Poi mi allontano e sponano le lignette Comunque poco fa non c'erano gli alberelli Eccoli Ciao alberelli Chi è quello lì? Cos'è quello lì? Ah no sono delle bacche Ok Allora facciamo così Rompiamo quest'altro coso Vediamo se ci da altro legno Questo lo posso rompere Ok questo alberello più fino lo posso rompere a quanto pare O forse me ha sbloccato tipo la possibilità di rompere gli alberi a pugni A pugnazzi Adesso me l'ha detto lui Vediamo No ok a questo grosso non gli faccio ancora un cazzo Quindi inevitabilmente dobbiamo per forza accontentarci Questi cespulli di merda e dei rami che troviamo a terra O comunque degli alberelli fini Quelli piccolini Tipo questo qui Questi cespulli comunque li rompo Tanto me le fotte assolutamente un cazzo Ma proprio zero Non credo mi servano a qualcosa Rompiamo pure sto coso L'unica cosa che lascio sono tipo Ste bacche qui che non credo neanche di poter rompere Rompere invece si a quanto pare Vediamo raccolgo E se la rompo che succede? Hai rotto il cazzo Hai rotto il cazzo Hai rotto il mega cazzo Hai rotto Ragno di merda Vaffanculo Devo pure mangiare sto ragno del cazzo Ma porco cane Mangia Guarda che non cammina quando mangia sto rincoglionito Anzi sta rincoglionita Mi dimentico che è femmina Sta puttana Bravo Mangia anzi brava Minchia tre ore per mangiare Ok vediamo se possiamo fare il capanno Si a quanto pare lo possiamo fare Minchia che brutto Ah con la rotella del mouse Ruoto tipo la costruzione E dove la posso andare a fare? Credo sia Non lo so tipo Minecraft Posso costruire un po' dove cazzo mi pare Solo che a quanto pare questo qui è tipo già fatto Quindi se tipo lo piazzo magari Non lo so qua Intorno al falò Visto che comunque ci dobbiamo tecnicamente scaldare Magari prende fuoco O magari O magari un cazzo Cioè non si è costruito ma è preso per il culo Inizia a costruire Ok quindi mi servono Due pilastri Un muro E un pavimento Ma quindi tecnicamente Non è che mi costruisce il capanno Cioè cliccando il capanno Mi crea tipo il progetto Mi mette le fondamenta E io poi devo fare le cose Ok Questo è il pavimento Quindi una volta che lo seleziono Come continuo poi? Da sotto mi dice i tasti per continuare Ah devo fare di nuovo Q Ok E faccio il muro Poi qui e faccio un pilastro Che comunque si incastrano da soli eh Non è che sto facendo niente io sinceramente Fa tutto da solo Come completata? Ah ok Una parte su tre Quindi devo fare così e mi sblocca le altre parti Di cui c'è la tettoia Ok E poi c'è il mezzo muro frontale Che va tipo qui No? Rega? Dove è finita? Capanno? No non devo costruire un altro capanno Ah ok Devo riavvicinarmi Perché per qualche motivo Se ti allontani un po' Si sminta tutto Ok Ok abbiamo completato due di tre Manca ancora un'altra parte Cristo Dio però quanto è complicato Una rottura di coglioni enorme Ok capanno Perfetto abbiamo completato il capanno Nel frattempo si è fatto giorno Perché capire come si costruisce E soprattutto riuscire a costruire Con tutto sto sistema stracomplicato E' un casino Ma quindi io non posso mettere le cose Un po' come cazzo mi pare E costruire le case Non lo so a forma di pene Come su Minecraft Non posso volendo magari Fare un faro a forma di cazzo Come quello che ho fatto Nella cazzocraft Che vi ricordo sempre di andare a vedere Perché una serie survival di Minecraft È bellissima No Cioè qui devo per forza fare quello Che mi dice lui E non so quanto sia divertente così Boh vabbè Sì cazzi Vediamo se c'è sbloccato qualcos'altro Sì c'è sbloccato Delle fondamenta Ok Poi mi ha sbloccato un letto Interessante Usalo per ripristinare il punto di generazione Recuperare salute Assegnero a nuovi amici Vabbè non me ne frega un cazzo Quindi declinamente Se noi ci riposiamo Recuperiamo vita E ci fa tipo lo spawn point Come su Minecraft Ok interessante C'è sbloccato anche il forziere piccolo E qui c'è sbloccato la piazzetta Ok interessante Però direi che per l'episodio di oggi Basta così Perché tanto abbiamo visto il nuovo mondo Abbiamo visto un po' le impostazioni Abbiamo visto un po' quello che si fa Abbiamo visto animali Qui c'è il galletto che è carino Ma se tipo faccio così Niente lui mangia Lei mangia perché è stupida E' una testa di cazzo Oddio Pollo Pollo Dove vai? Pollo non ti sto facendo niente Maledetto Guardalo Ma quanto è veloce Ma affanculo muori E mi ha dato anche lei Una cosciotta di non so cosa Cioè una bistecca enorme Incredibilmente Oddio la mucca Ma la mucca c'è un bordello di vita Vieni qua Vieni qua non ti faccio niente Mucca Mucca vai a fare mu da un'altra parte Porco Dio Quando ci sto io non devi fare mu Quando ci sto io devi stare zitta e soffrire mentre gli ammazzo E che cazzo Guardala Vedi tu quanto tempo devo perdere io alla chiusura del video Per ammazzare sta cogliona Come fa No scusa Come cazzo fa un pollo a darmi una bistecca Che ci può stare perché piccolo E poi ammazzare una mucca che dieci volte il pollo ti da una bistecca Mannaggia la miseria che cose fatte a cazzo Che odio quando succedono ste cose Comunque signori stavo dicendo Abbiamo visto un po' il mondo A parte le impostazioni Il filmato iniziale Ok abbiamo visto un po' il mondo Abbiamo visto com'è Molto carino devo dire ripeto Abbiamo visto comunque come fare il falò Abbiamo scoperto che qui abbiamo il nostro amico Piccolo orsetto LGBT Abbiamo fatto il primo capanno Che credo sia la prima casa Effettivamente fatta un po' a cazzo Veramente brutta Mezza diroccata Nonostante sia appena fatta ma vabbè Però direi che basta così E noi ci possiamo tranquillamente vedere Nel prossimo video Il prossimo video di Lego Fortnite Che potrebbe essere a tutti gli effetti Una nuova serie del canale Perché comunque se il gioco viene aggiornato Come Minecraft Quindi periodicamente Vengono inserite tante cose Io non so diverse cose che c'è già all'interno Se c'è tipo dei mini boss Delle sfide Delle miniere da esplorare Roba da scavare Non lo so Lo scopriremo pian piano Però se viene aggiornato Potrebbe diventare una bella serie Col tempo Quindi magari la iniziamo Facciamo una specie di miniserie iniziale Poi se non troviamo più l'altro da fare Aspettiamo magari se magari viene aggiornato Oppure continuiamo Se nel frattempo che scopriamo le varie cose E fanno già altri aggiornamenti Ma per il resto signori Come ho già detto tipo tre volte Per il video di oggi Direi che è tutto E quindi basta così Perciò signori con sullo sfondo il farò La casetta di roccata Il piccolo orsetto LGBT E davanti il nostro omino don nera Con gli occhi che sembrano che ti scrutino l'anima Ma vabbè con lo sguardo proprio perso nel vuoto Direi che comunque per il video di oggi è tutto Se vi è piaciuto mettete like Se non vi è piaciuto mettete dislike Ma commentate dicendomi cosa non vi è piaciuto In modo tale che possa migliorarmi Se vi sono simpatico iscrivetevi Magari attivate la campanella Che a me vuol solito non dispiace mai E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao